L'ex ministro dell'Interno, Nicola Mancino, convocato oggi a Caltanissetta in Corte d'Assise per deporre al processo in revisione per la strage di Via D'Amelio, si è avvalso della facoltà di non rispondere. L'ex politico democristiano, che è imputato al dibattimento sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia, sarebbe stato interrogato come imputato di procedimento connesso. E tale status gli offre la facoltà di astenersi dal testimoniare e Mancino se ne è avvalso. Lo stesso Nicola Mancino ne ha spiegato le ragioni. Non voglio sottrarmi in alcun modo, ma non voglio interferire su un procedimento in cui non sono stato ancora interrogato. Mancino si è riferito ovviamente al processo di Palermo sulla trattativa in cui è accusato di falsa testimonianza. Mancino avrebbe dovuto deporre a Caltanissetta sul suo incontro col giudice Paolo Borsellino l'1 luglio 1992, giorno del suo insediamento a capo del Ministero dell'Interno. E sempre oggi in Corte d'Assise, in occasione dell'udienza nell'ambito del processo in revisione sulla strage Borsellino, il boss Salvatore Madonia ha depositato alla Corte d'Assise una lettera di protesta, tramite cui lamenta che non gli sono garantiti il diritto alla difesa e la riservatezza delle comunicazioni con il suo legale, l'avvocato Flavio Sinatra. Al dibattimento sono imputati anche il boss Vittorio Tutino e i falsi pentiti Vincenzo Scarantino, Francesco Andriotta e Calogero Pulci. Inizialmente Madonia ha deciso di non partecipare al processo in videoconferenza, poi però ha scelto di presenziale.